Le emozioni sono tante perché è stato realizzato un sogno, un sogno partito ormai nella mia testa da più di due anni fa e quindi pensando di realizzare questa struttura con un bellissimo progetto verso l'utente, cioè riuscire a portare dentro un centro quasi tutti i servizi sanitari e quindi dire al paziente che quando entra a Fisioradi Medical Center in questa nuova struttura può usufruire di tantissimi servizi sanitari, da quello che può essere la visita medica specialistica a quello che può essere la diagnostica e tutta la fisioterapia e la riabilitazione. Quindi quello che vorremmo dare oggi al paziente è, oltre alla qualità, alla professionalità, il servizio e anche l'ottimizzazione del tempo nella sua giornata e quindi dare in modo che il paziente per fare un percorso terapeutico non faccia mille giri a destra manca. Quello che vorremmo portare è una nuova mentalità nell'ambito sanitario. Quello che vorremmo fare recepire alle persone non è solo di andare dal medico quando si sta male, ma riuscire a far entrare nella mentalità delle persone anche il concetto di prevenzione. Quando ha un problema venire a chiedere informazioni da noi e poter partire con noi da là fino ad arrivare alla Z. Quindi arrivare qua, chiedere quello che ha bisogno. Noi naturalmente saremo sempre disponibili per inizialmente un consulto gratuito e far capire cosa può fare da noi. Quindi a quel punto fare l'accertamento, la visita specialistica e poi alla fine se ha bisogno di naturalmente fare un percorso terapeutico, seguirlo sul percorso terapeutico. Oggi dobbiamo capire che prevenire è meglio di curare e quindi proporremo proprio dei pacchetti completi, uomo e donna in base all'età, quindi over 50, over 60, over 70, perché oggi bisogna capire che non bisogna aspettare di star male perché molte patologie, se prese per tempo, possono non essere pericolose, non essere dannose e in alcuni casi anche salvare la vita della persona. Siamo partiti da un capannone artigianale che prima era occupato da degli artigiani e dovevamo creare questa struttura per Fisioradi. Abbiamo fatto una scommessa, 5 mesi, e 5 mesi sono stati sufficienti per realizzare un intervento piuttosto corposo. Abbiamo creato una struttura medica con 6 ambulatori, 8 box per fisioterapia, una vasca per terapia, un percorso KNIPE, quindi vasca a caldo-freddo, una palestra di circa 120 metri quadrati e un polo diagnostico che comprende una risonanza magnetica, un'attacca, raggi X, una mammografia e una MOC. Vi aspettiamo numerosi a breve per l'apertura e quindi per il 18 settembre per l'inaugurazione ufficiale e sperando che poi potete non solo vedere e ammirare la struttura, ma poter capire l'importanza di una struttura così organizzata con ormai quasi 50 specialisti per ogni branca medica.